assieme a spesso il male di vivere ho incontrato meriggiare pallido e assorto è in assoluto uno degli ossi più famosi della prima raccolta poetica di montale ossi di seppia per ossi intendo componimenti poetici che fanno parte della raccolta meriggiare pallido e assorto trascorrere il pomeriggio abbagliato dalla luce del sole è assorto nei pensieri nei pressi di un muro d'orto reso rovente dal calore del sole ascoltare tra i rovi i pruni e gli sterpi i cespugli i versi striduli gli schiocchi dei merli il frusciare delle serpi delle bisce spiare cioè osservare di nascosto nelle crepe del terreno o sulla veccia che è una pianta ad arbusto basso le file di rosse formiche le file di formiche rosse che ora si interrompono e ora si intrecciano sulla cima di minuscoli cumuli di terra osservare tra i rami degli alberi le fronde il palpitare lontano di scaglie di mare osservare e quindi anche sentire da lontano il modo ondoso del mare che si vede a tratti tra i rami mentre dai calvi picchi cioè dalle colline brulle si leva il canto vibrante e stridulo delle cicale e procedendo camminando nel sole che abbaglia con la sua luce intensa sentire cioè percepire con meraviglia e tristezza cosa sia la vita e la sofferenza di vivere mentre si procede si cammina lungo una muraglia che in cima a cocci a guzzi di bottiglia la poesia chiaramente divisibile in due sezioni la prima descrittiva la seconda meditativa nella prima il poeta evoca un pomeriggio estivo sullo sfondo di un paesaggio scabro e assolato che si può identificare con quello ligure delle cinque terre il gruppo di cinque paesi e in provincia di la spezia in cui montale era solito trascorrere le vacanze estive è un paesaggio estivo costituito da alcuni elementi e abitato da alcune presenze misteriose vediamole il paesaggio è abitato da oggetti concreti il muro che cinge l'orto il suolo inaridito nelle crepe del suolo la vegetazione i pruni gli sterpi le fronde cioè gli alberi la veccia una pianta leguminosa a basso fusto e le alture brulle è una natura riarsa dal sole estivo che è abitata da presenze animali che si fanno sentire attraverso versi e rumori i merli le serpi le bisce e le cicale la natura quindi si presenta aspra riarsa dal sole inaridita priva di vitalità l'ultima quartina come abbiamo detto è meditativa perché contiene una riflessione scaturita dall'esperienza auditivo visiva del paesaggio sentire è il verbo che qualifica la natura meditativo riflessiva dell'ultima quartina è una riflessione esistenziale sulla vita e sul suo travaglio sulla sofferenza che scaturisce però non da una riflessione di tipo intellettuale ma dalla percezione concreta dell'aridità dell'esistenza del male di vivere che pervade la natura stessa io vi dico che cosa sente con triste meraviglia in questa natura riarsa e priva di vita sente che la propria vita ma come vedremo la vita di tutti è una fatica estenuante è un camminare lungo un muro invalicabile e sormontato da cocci di vetro cocci di bottiglia grazie a tutti grazie a tutti